Vicenza, Livorno e Maglia Gialla, non si vince in questo stadio non so da quando. Tiago Andreva, para fortina abbastanza facilmente, salta Bielanovic, guarda De Lucia lì che paratona. Complimenti, ecco Tavano, Tavano questa è buona, Tavano se la fa para, va bene lo stesso Cicci. Cassina in aria, quindi si apisce tanto, ma comunque De Lucia serve anche di stavolta, poi c'è incazza. Se non da tempo entra Volpe, Bonetto ci prova, si sposta, tira, ma Lino va bene lo stesso dai. Ma se si scota le scarpe, ecco Lino comincia a prendere misure, tiro di diamanti, palo. Fortin questa volta è andata bene, 10 minuti alla fine, diamanti, stop, gira, eccolo, guarda, 1 a 0 per noi. Lino esulta, si rivede anche nel replay, borda, e vai. Tacca ora a Vicenza ci provano a, si buttano in terra, pletiano, si mandano a fare una girata. Cicci. Bellbott. Ah, è arrivato stacco quelli. Io non ero stesso. Munizione alla fine, io maggiorta, lo tenevo io qui. Stava bene, vai. Bravi ragazzi. Un applauso. Vicenza zero li vorrò uno. ? Lino. Velova. . Grazie a tutti.